Un saluto dal Tg della mobilità. Per Ferragosto ci sarà l'orario festivo sulla rete capitolina del trasporto pubblico. Orario del sabato per le metropolitane con le ultime corse dai capolini a l'1.30 di notte. Da ricordare sulla metro C la sera ci sono i bus al posto dei treni per i lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo. E sia sabato 15 che domenica 16 agosto pedonalizzazione festiva per via dei fori imperiali. Saranno deviate per l'intera giornata le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Domani notte e sabato notte deviazione per la linea di bus NMB.